Cosa pensi di questa raccoglione in Punta dell'Este? spero che avremo la velocità della ultima raccoglione eravamo molto rapidi in quali e la raccoglione quindi sono in quali seconda e ho finito la P4 con un problema del inizio quindi ho inizio l'ultimo abbiamo molto buoni cari quindi vedremo mi piace questa raccoglione l'anno scorso ma a settembre ho fatto una raccoglione quindi mi sento bene e mi piace la raccoglione? mi piace molto la raccoglione grazie